Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video! Oggi andiamo a vedere un argomento molto essenziale per voi ciclisti perché andiamo a vedere le differenze tra un olio, un grasso, una pasta ai carbonio, un freno a filetti e soprattutto se non li conoscevate, capite i reali utilizzi che possono avere questi oli o grassi e come li potete utilizzare e soprattutto capite se in questo modo li avete usati in maniera non appropriata. E andiamo subito a vedere i grassi. Possiamo trovare diversi tipi di grassi, questo è quello che utilizzo io principalmente il grasso va messo nelle parti dove ci sono i cuscinetti principalmente, un esempio è la serie sterzo un esempio è dentro i cuscinetti, ovviamente non in tutti i cuscinetti perché tanti sono già sigillati all'interno quindi non possiamo arrivarci all'interno, quelli più vecchi, quindi con le sfere che ci sono nelle bici più basiche un'aggiunta di questo grasso ogni tanti chilometri potrebbe essere l'ideale e vi direi che è essenziale da averne almeno un barattolo a casa e usarlo nel giusto modo la pasta ai carbonio, questo è quello che utilizzo io, va usata nelle parti di carbonio un esempio è il tubo reggisella, se abbiamo un tubo reggisella in carbonio con un telaio in carbonio è fondamentale metterla, può anche essere messa nel manubrio in carbonio e ovviamente come dice il nome è da utilizzare nei componenti in carbonio questa al contrario del grasso fa l'effetto opposto facciamo l'esempio del tubo reggisella, se abbiamo due componenti di carbonio assieme anche chiudendoli c'è il rischio che, chiudendoli ai giusti newton metro che comunque dovrebbero essere chiusi c'è sempre il rischio che il carbonio scivoli un po' per evitare di chiudere troppo il nostro reggisella siccome il carbonio è comunque un componente abbastanza delicato andandolo a chiudere troppo rischiamo di rubirare il nostro tubo reggisella messa una pasta ai carbonio nel tubo reggisella eviterà i sfregamenti di carbonio quindi il tubo reggisella chiuso ai suoi newton metro rimarrà fisso al suo posto una volta ogni qualche mese è consigliabile nelle vostre selle di andare a pulirlo e andare a rimettere la pasta di carbonio non è una cosa che si fa giornalmente ma potete farlo tranquillamente una volta all'anno o se fate tantissimi chilometri una volta ogni qualche mese frena filetti anche questo un componente che forse non tutti conoscete è il classico componente di colore blu che si vede nelle viti quando magari andiamo a togliere una vite lo vediamo che è stato inserito questo diventa molto utile nelle viti che si svitano quindi andando a mettere un po' di frena filette nelle viti quando le andiamo a inserire questo farà sì che la nostra vite si evita di svitare ovviamente va usato con attenzione perché se ne andiamo a mettere troppo la nostra vite poi non si toglierà più non toglierà più magari rischiamo che si spanni e poi inizia a diventare un problema quindi nei pezzi dove le viti si tendono a svitare è consigliabile a metterne giusto un po' e ovviamente non abbondate soprattutto perché poi andare a togliere quella vite se avete già abbondato con frena filetti saranno grandi problemi e ora andiamo a vedere uno dei pezzi più utilizzati da tutti i ciclisti l'olio qui ho due tipi di olio uno al teflon e uno alla cera l'olio sapete tutti che va usato nella catena quindi non va utilizzato un grasso che è il primo che abbiamo visto in questo video l'olio al teflon io lo uso principalmente quando siamo in un periodo molto piovoso perché questo è più resistente all'acqua quindi periodi invernali e soprattutto all'interno di cavie guaine perché rispetto a un olio più tradizionale rimane di più e quindi il nostro cambio di cavie guaine verrà fatto più avanti gli oli ne esistono veramente di molti tipi questo è un olio alla cera ne trovate anche in molti altri in commercio è molto particolare perché bisogna coccolare molto la nostra bici quando lo andiamo a mettere se non lo andiamo a mettere bene un olio alla cera è come non averlo quindi è molto più consigliabile un olio liquido per andare a mettere un olio di questo tipo dobbiamo avere la catena che è asciutta al 100% perché solo un po' di acqua un po' di umidità sulla catena non lo farebbe asciugare come si deve e quindi quando poi andiamo a utilizzare la nostra bici sarà come non averlo neanche messo dopo che l'abbiamo applicato su una catena che comunque deve essere asciutta al 100% lo dobbiamo fare riposare delle ore consigliato per tutti i fanatici delle bici che magari lavano la bici il sabato per uscire la domenica dopo averla lavata e asciugata come si deve si può andare a applicare un olio di questo genere quando poi sarà asciutto un olio di questo genere l'effetto che darà è molto simile alla cera a quella delle candele quindi quando vediamo una cosa di questo genere sulla guarnitura vuol dire che è stato messo bene oltre a questo in commercio esistono anche oli ceramici esistono tantissimi tipi di oli l'importante è saperli usare correttamente e per applicarli una cosa che ho dato per scontato ma l'ho detto prima è la catena deve essere pulita al 100% quindi non possiamo andare a mettere un olio sopra una catena che è già sporca o meglio lo possiamo fare ma si sporcherà ancora di più e andando a continuare a trattare così una catena poi si rischierà di far incrostare tutto lo sporco e poi la catena non andrà come deve andare quindi questi sono gli oli classici che possiamo mettere su tutte le catene un consiglio importante è in base al periodo che siamo della stagione cercare di mettere un olio adeguato un olio secco come quello alla cera d'inverno se non siete dei grandi fanatici della bici che quindi non la lavate una volta a settimana o una volta ogni due settimane dipende in base a come lo utilizzate è abbastanza sconsigliato è più consigliato un olio più per i periodi freddi che quindi anche se beccate pioggia se beccate un po' di sporco per strada che va comunque a sporcare la catena lui resiste di più al contrario se siamo in un periodo secco come d'estate è consigliabile usare un olio secco che quindi non essendoci acqua che gli andrà poi a dar fastidio lui rimane perfettamente sulla catena e il bello degli oli secchi degli oli alla cera è che la catena rimane sempre pulita perfetta quindi non andrà poi a incrostarsi con tutto lo sporco e queste sono le principali differenze di tutti questi componenti che sono essenziali per le vostre bici per mantenerla sempre al top e spero che questo video vi sia stato utile non dimenticatevi di lasciare un like e iscrivervi al canale per vedere altri video molto simili e io vi saluto e ci vediamo alla prossima